Ieri, come tutti sapete, la live è stata interrotta bruscamente da un avvenimento sfortunato E tale avvenimento sfortunato prende il nome di Sono rimasto a Arbuio, per cui Silenzio canzone Per cui ho deciso di comporre oggi una canzone Per commemorare questo evento di ieri Che ci ha affranto tutti Perché siamo rimasti, appunto, a Arbuio Sia io che voi Siete pronti? Dedicata a tutti voi? No, la live di oggi non dura tre ore Scusate, dura due ore Lo so Siete ingordi di live Non vi preoccupate, siamo in live anche domani Componimento musicale Arbuio Vado, eh Arbuio Sono rimasto Arbuio Ma con me anche voi Tutti Arbuio Siamo rimasti Tutti Arbuio All'arvorare Tutti Arbuio Arrattarci le palle Arbuio Oh no Ma oggi siamo tornati Basta Che ve ne pare? Bellissima Bellissima Giudizio sincero, eh Non voglio che siate poi troppo buoni Cioè, la verità La verità La verità La verità Maneskin Livello Maneskin Vero? Eh, lo so Lo so Da Sanremo Nove Grazie Grazie Mi discosto No, allora Non ti puoi discostare L'hai sentita Cioè Te è piaciuta pure Fa caga Allora Questo è un parere Rispettabilissimo Però ti invito A rivedere i tuoi gusti musicali Perché probabilmente Ti vi faccio ascoltare Non lo so